L'asino perché è un animale che ti segue passo passo e che con testardaggine e nel tempo riesce a raggiungere sempre il proprio obiettivo. Donkey e-commerce è una piattaforma abilitatrice che ha l'obiettivo di risolvere le problematiche legate alla costruzione e alla gestione di un e-commerce. La cosa più importante per una startup sono assolutamente le competenze. I soldi sono importanti ma arrivano in un secondo momento, quindi è importante avere intorno le persone giuste con le competenze giuste. Questo secondo me è il primo criterio.